Ecco un'altra storica cosa, vedete Sarri della Juventus, poi vedete Reina che ha il guinzaglio, il cane della Juve, Koulibaly, insomma un po' tutti i giocatori che raffigurano il Napoli e qui ci sono gli arbitri, gli arbitri che aiutano la Juve tutte le domenica, Mertens, Insigne e qui c'è un cane da solo, dobbiamo scoprire di chi sarà questo cane, lo scopriremo nelle prossime puntate, poi qui c'è Isai, un altro otto a Koulibaly, Giorginio che è andato a Chelsea e qui che c'è, Vedete? Uno spettacolo, qui c'è un santo e siamo al Barnilo, Barnilo, pieno centro storico di Napoli, qui si vede tutto, forza Napoli!